L'intelligenza artificiale in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come GIMP sta implementando direttamente dentro di sé l'intelligenza artificiale. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download, come vi dico sempre. Allora ragazzi, primi vagiti di intelligenza artificiale in GIMP, primi plugin. Allora, come sapete GIMP è un programma open source gratuito, quindi sta al buon cuore dei programmatori, ovviamente degli sviluppatori del programma, ma essendo open source tutte le persone che sono in grado di farlo possono implementare GIMP, quindi creare plugin, creare ovviamente dei programmi che possono girare su GIMP e proprio in questo senso ovviamente dei sviluppatori privati sono andati a creare dei plugin di intelligenza artificiale direttamente dentro il programma GIMP. E oggi ne vedremo uno, uno dei più semplici perché non ha bisogno di configurazioni particolari. Come sapete sono stato una quindicina di giorni senza pubblicare video perché mi sono un po' addentrato in questo mondo di sviluppo dell'intelligenza artificiale legato ovviamente al nostro programma preferito e ci sono veramente varie, c'è tutto un mondo dietro, soprattutto legato ai server che voi potete utilizzare, quindi server locali in cui voi andate ad utilizzare il vostro computer ma deve essere un computer con una GPU potente, cosa che io per esempio in questo computer non ho, oppure un aspetto molto interessante che svilupperemo in futuro, sicuramente farò dei video a riguardo, si possono utilizzare degli hosting GPU, cioè dei servizi tipo Google Colab o Kaggle che praticamente voi andate ad utilizzare un notebook remoto dove ci sono delle GPU che voi potete sfruttare, utilizzare per voi scaricare ovviamente il risultato, quindi veramente un mondo incredibile. Oggi però vedremo una delle soluzioni più semplici al momento per utilizzare intelligenza artificiale direttamente dentro GIMP e penso sia uno dei video in italiano che forse non ancora ne è stato trattato, quindi veramente una, secondo me, una novità. Allora, come sapete ragazzi, dobbiamo andare ad individuare la nostra cartella delle plugin, quindi come abbiamo già visto altre volte, andate in GIMP, andate in modifica, andate in preferenze, andate in cartelle, qui vedete in basso a sinistra, e andate su plugin, vedete, e qui vedete che avete due cartelle, prendete la prima, quella dove è scritto users, e cliccate qua che vi apre direttamente, vedete, mostra posizione file nel gestore file, vi apre il gestore file, e qui avete la cartella dei plugin, questi sono tutti i plugin che avete al momento che ho, al momento installato in GIMP, voi avrete ovviamente i vostri. e mettiamo un attimo giù questa cartella. Bene, chiudiamo qui, andiamo ovviamente a scaricare il nostro plugin, quindi utilizziamo Chrome, vi lascio il link ovviamente in descrizione, si chiama, vedete, sviluppato da BlueTartle Eye, GIMP Stable Diffusion, quindi Stable Diffusion ovviamente sapete che è quel progetto di intelligenza artificiale che sta spopolando sui social, andate qui su Code, e andate su ovviamente Download Zip, lui vi scaricherà ovviamente il file zip, e andremo ad aprirlo, ci cliccheremo sopra, vedete, e avete GIMP Stable Diffusion Main, ci cliccate sopra, e vedete che qui ci sono delle cartelle, c'è la cartella Stable Horde, cliccate sopra, il file che ci interessa a noi è questo qui, GIMP Stable Diffusion Horde, vedete che ha l'estensione del plugin che è py, quindi tasto destro, copia, e ovviamente andiamo di nuovo nella nostra cartella plugin, quella di prima, vedete, e andiamo a fare un tasto destro, in colla, e vedete che lui ce l'ha copiato qua, abbiamo copiato il plugin nella cartella dei plugin di GIMP, se qui ragazzi non siete arrivati a questo passaggio, tornate indietro col video, e fate passo passo quello che io ho fatto, se non vi è chiaro qualcosa, scrivetemelo nei commenti, che ovviamente ci guarderemo e cercheremo di risolverlo insieme, chiudiamo, chiudiamo, e qui tiriamo giù ovviamente a icona il nostro Chrome, e andiamo ovviamente, qui ancora non è comparso niente, perché dobbiamo andare a riavviare ovviamente GIMP, quindi chiudiamo GIMP, riavviamo GIMP, e già da qui vedete una grossissima differenza, cioè avete il menu AI, cioè intelligenza artificiale, e qui c'è Stable Horde, che adesso è grigio, ovviamente perché non c'è nessuna immagine attiva, quindi andiamo su File, andiamo su Nuova, andiamo a creare una nuova immagine 512x512, che è la misura, la dimensione dell'immagine in cui il plugin funziona bene, perfettamente, andiamo a renderlo con una, quindi apriamo qui il più delle opzioni avanzate, colore di sfondo, mettiamo una trasparenza, ok, abbiamo creato un'immagine 512x512 trasparente, perché? Perché vogliamo andare a generare, quindi, intelligenza artificiale generativa all'interno di GIMP, Stable Horde, e ci appare questo pop-up, vedete, nella quale abbiamo la Generation Mode, cioè la modalità di generazione dell'intelligenza artificiale, che può essere una da testo a immagine, da immagine a immagine, o in Painting. Andiamo inizialmente, ovviamente, avendo una immagine buona, trasparenza, Text to Image, Qui avete varie impostazioni sulla forza, sulla accuratezza del prompt, gli step, gli step sono, ovviamente, i vari passaggi, i vari step di generazione, più avete, ovviamente, step alti, più ovviamente sarà curata l'immagine, e viceversa. Chiaramente, state attenti, perché se non avete una GPU abbastanza potente, chiaramente, ad aumentare degli step, aumenterà anche notevolmente il tempo. Questo è opzionale, niente, il SID, NSFV è il Not Safe for Work, cioè, credo che sia una sorta di parental control, quindi, vi può non generare, diciamo, contenuti particolari. Il prompt, ovviamente, è quello che noi dobbiamo andare, ovviamente, a inserire, per poi creare l'immagine. Andiamo a scrivere, Ancient Egyptian, Ancient Egyptian Queen. Facciamo più o meno sempre gli stessi prompt, Ancient Egyptian Queen. Ok, API è il, è un, se vogliamo collegarci a un server esterno, tipo un hosting GPU, ma sono, ovviamente, come vi dicevo, argomenti di cui probabilmente parleremo in futuro. E qui c'è il numero massimo di minuti di attesa, ovviamente mettete 5, se avete una GPU potente, potete mettere anche meno, lascio io, lascio di default 5, perché non ho una GPU potente. Andiamo a cliccare su OK. Vedete che lui parte con la progressione e, vedete qua, è webposition, e lui si collega a un server suo di stable horde e fa la generazione e poi ci rimanda, ovviamente, il risultato. Vedete che è anche abbastanza veloce, io ho un PC senza GPU, ma ho una scheda grafica iRXX integrata, con un processore, è un i5, quindi, e vedete che ci ha creato una immagine, direi, molto molto buona, ok? Proprio un'intelligenza artificiale ci ha creato da nulla questa immagine. Qui ci ha creato anche questo livello in cui c'è un numero che probabilmente, non so, sarà un numero di generazione del server. Andiamo, possiamo andare anche tranquillamente a toglierla, a cancellarla, vedete che ci ha creato una bella immagine di una regina, di una regina egiziana. Ora possiamo andare a fare, ad esempio, una cosa di questo genere. Prendiamo questa parte, andiamo a, con cans, a togliere, anzi, facciamola anche un po' più grande, andiamo a togliere questa parte, la rendiamo trasparente, con una selezione attiva, come in questo caso, torniamo su AI e stable horde e andiamo a provare a fare un nuovo livello generativo di image to image, cioè immagine nell'immagine e andiamo a scrivere, ad esempio, qui nel prompt sunglasses, sempre con minuti di attesa massimi 5, clicchiamo su OK e andiamo a vedere cosa ci genera l'intelligenza artificiale con questo prompt su questa immagine. e vedete che lui ci ha creato questa sorta di, io ovviamente ho fatto una selezione non corretta, nel senso doveva essere fatto molto più, molto più precisa, però vedete che ci ha creato ovviamente i nostri sunglasses, quindi i nostri occhiali da sole sulla nostra regina egiziana. Abbiamo poi un altro livello generativo che è, intanto andiamo a togliere questo livello del numero di generazione, andiamo a prendere il nostro strumento di selezione rettangolare, andiamo a prendere questa parte, andiamo a cancellare e andiamo a fare un inpainting, quindi stable cord, inpainting significa un riempimento, praticamente una pittura di riempimento, quindi andiamo su inpainting e andiamo a scrivere magari, non so, high quality, high quality, ancient style, ok, inventiamo così giusto per provare e clicchiamo su ok, lui ci dovrebbe andare a riempire, a seconda di quella che è l'immagine, a riempire questa parte sotto, quindi andiamo a vedere cosa ci genera l'intelligenza artificiale. Ed ecco che lui ci ha fatto questa generazione di questo tipo, ci ha concluso la foto in questa maniera, poi ovviamente si può essere, si può fare un prompt ovviamente più, più ovviamente preciso. Andiamo ad esempio a dargli stable horde, inpainting, ancient Egyptian, style, field image. Andiamo a vedere cosa ci crea con questo prompt. Ed ecco che ci ha creato in questo caso proprio, vedete ci ha, siamo stati un po' più prestigi nel prompt, creato proprio il riempimento dell'immagine in stile antico Egitto. Bene, avete visto le prime implementazioni dell'intelligenza artificiale direttamente dentro GIMP tramite plug-in esterni, questo è uno dei più semplici secondo me perché non ha bisogno di particolari configurazioni esterne collegandosi egli stesso, esso stesso ad un server proprio. Ovviamente in futuro vedremo altri tipi di plug-in di questo genere, come vedete stanno uscendo grazie alla programmazione di sviluppatori privati, indipendenti. Sto studiando come vi dicevo questi servizi anche di hosting GPU, nel quale ovviamente per chi non ha un computer potente poter far girare tramite GPU dislocati diciamo in rete, quindi tramite servizi di hosting, utilizzare il proprio computer sfruttando la GPU di altri connessi in rete quindi un mondo abbastanza affascinante che ovviamente sto studiando proprio ora. Bene ragazzi, spero che vi possa essere dato d'aiuto questo video che secondo me è veramente uno dei primi in italiano che tratta l'intelligenza artificiale direttamente dentro GIMP venite a tornare sul mio profilo Instagram vero underscore academy e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video ciao e grazie a tutti